Buongiorno, quarto giorno della 125esima Fiera Cavalli, siamo nello stand dell'Arma dei Carabinieri con il carabiniere Paponetti, buongiorno. Buongiorno. E vorremmo sapere, visto che lei è del reparto montato, mi sembra di capire, come si fa a diventare un carabiniere a cavallo? Allora, per quanto riguarda il quarto reggimento a cavallo, bisogna dire che il primo step per entrare a far parte di questo meraviglioso mondo è sicuramente fare domanda per entrare nell'Arma dei Carabinieri sul sito www.carabinieri.it. Una volta superato il concorso, si può accedere al corso formativo nelle varie scuole in tutta Italia, nelle scuole allievi in tutta Italia e poi si potrà esprimere la preferenza per il reparto a cavallo. Chi può fare domanda? Possono fare domanda a tutti, tutti quelli che sono tesserati nella FISE, tutti quelli che hanno un minimo di esperienza e anche chi è semplicemente appassionato e vuole imparare, vuole approcciarsi a questo mondo. Perfetto, la ringrazio molto e buon lavoro. Grazie mille, buona giornata. Grazie mille, buona giornata.